Ciao a tutti, oggi video cose non a caso del mese di settembre, come tutti i mesi in questo video racchiudo i preferiti in generale che hanno maggiormente caratterizzato questo mese, che sia skin care, make up, cose per la casa, abbigliamento, intrattenimento, oggetti vari, quindi preferiti più usati, possono essere conferme, cose che ho comprato da poco ma di cui so già dirvi qualcosa, insomma un po' di tutto, come sempre. Allora, prima cosa che vi voglio mostrare, perché altrimenti me ne dimentico, l'unico acquisto interessante di cui sono felicissima per quanto riguarda l'abbigliamento di questo mese è l'abito che indosso, che è una felpa, come vedete, con maniche a tre quarti, collo a felpa, di questo grigio asfalto, ma in realtà è un abito che non so come far a mostrarvi, vedete che è tagliato a un certo punto qui e ha una specie di gonnellina, a me arriva sopra il ginocchio, questa è una taglia L ed è di H&M, mi piace da impazzire, questo è il mio modello, ormai forse l'avrete capito, che è una delle cose che mi piace di più indossare come tipologia di abbigliamento in generale, sono quelli che mia figlia chiama i vestiti abajur, perché a me piacciono così e mi sembra che mi stiano bene, è una di quelle cose che se io trovassi in tutti i colori lo comprerei, è una felpa garzata, non troppo calda, quindi perfetta per questa stagione, io indosso quest'apito con leggings neri e biker boots e io sono stra a posto, tra l'altro io subito dopo aver registrato il video uscirò, è sabato oggi, festeggiamo il compleanno di mio marito, io così mi sento da dio, perché andiamo in un posto che è adatto a questo tipo di abbigliamento, metterò una borsetta piccolina, un po' carina, non da sera, però insomma non ho il borsone che mi porto dietro di giorno, io sono stra felice così e mi piace veramente tanto, l'ho pagato 24 euro e 99, 25 euro, una roba del genere, niente, se sapete se esistono altri colori fatemelo sapere perché io li vorrei tutti davvero, ma ora cominciamo, cominciamo con la skin care, allora re in assoluto della mia skin care di questo mese, ma che è stato re assoluto della mia skin care per 10 anni e ricomincerà ad esserlo sempre, non lo abbandonerò più, è l'Advance Night 3 Per di Estre Luder, lo so che ve ne ho parlato tantissimo in questi ultimi video, ma del resto non può che essere così, dopo moltissimi anni che non lo usavo, adesso è un misetto che lo uso, mi sono riresa conto che questo prodotto fa davvero la differenza, questo è il siero dei sieri, lo metto la sera e la mia pelle è proprio arinata, nell'arco di un mese ho visto le discromie assolutamente mitigate, la grana della pelle è più uniforme, il viso è più luminoso, più compatto, più elastico, questo è un siero globale che sicuramente agisce come anti-age, più ripeto sulla tonicità e compattezza della pelle, che non sulle rughe in sé, su cui si può fare un gran poco, ma già quando si ha questo tipo di tono alla pelle si ha già moltissimo, secondo me, alla mia età, è un risultato eccezionale ed è favoloso, costa tanto, ma è anche vero che io lo uso da un mese e praticamente sono arrivata qui, quindi voglio dire, può durare, io avevo preso la versione da 50 ml ed è semplicemente favoloso. Altri due prodotti eccezionali con cui mi trovo davvero molto bene sono due prodotti di Giada che uso per la detersione al mattino. Allora, io al mattino non ho delle esigenze particolari, specie per quanto riguarda la detersione, a me interessa che un prodotto sia, diciamo, bello lavante, pulente per togliere eventuali residui di crema notturna che magari in questa stagione comincia ad essere un pochettino più ricca rispetto che per l'estate o magari la maschera notturna che vi siete messi e così via e poi voglio una cosa che rinfreschi, che sia leggera, non aggressiva, ma che rinfreschi e svegli tantissimo e con questa linea di Giada mi trovo veramente molto bene. Si tratta della linea Radiance Vitamin C e ho il gel e il tonico. Il gel è molto delicato, piuttosto liquido, facilissimo da sciacquare e si tratta di un prodotto che contiene acido mandelico, acido ialuronico, acido ferulico, bacche di goji, mirtilli, insomma cose di questo genere, Radiance Cleansing Face Gel e il tonico è altrettanto buono e si chiama Radiance Face Toner, tonico illuminante. Mi piace moltissimo questa abbinata, mi rende il viso bello fresco, sveglio, luminoso, mi trovo veramente tanto tanto bene. Poi andiamo su due prodotti che anche qui sto utilizzando regolarmente da un mesetto circa e si tratta di questi due prodotti di Codalie che mi sono stati regalati per il compleanno, sono due prodotti piuttosto famosi, specie la crema mani. Si tratta della Creme Gourmand Mani e Unghie, questa, e questo invece è il Balsamo Labbra ed è il Suan de l'Evre, eccolo qui. Sono due prodotti pazzeschi da giorno, secondo me. La crema mani è quella classica crema mani molto idratante, ma non riparatrice, nutriente, troppo ricca, che non appiccica, si assorbe bene nella pelle ed è perfetta per l'utilizzo durante la giornata, anche se fate delle cose. Potete subito utilizzare le mani senza che vi scivolino le cose che tenete in mano, che appiccichiate l'impossibile, la porto come in borsa oppure la uso sulla mia scrivania quando sono al computer e mi trovo molto bene. Stessa cosa dicasi per il Balsamo Labbra. Per me, per la notte, entrambi sarebbero troppo poco. A me servono prodotti di questo tipo, più nutrienti e riparatori, ma per il giorno anche questo è favoloso. Hanno entrambi un buonissimo profumo e mi trovo davvero molto molto bene. Passiamo appunto, visto che parlavamo di profumi, ai due profumi che ho utilizzato di più in settembre. non ho fatto una gran vita notturna, ma neanche sociale, diciamo, che non fosse casa, scuola di mia figlia, lavoro, supermercato, niente di che. Quindi il profumo che ho utilizzato di più è un profumo perfetto per questo stile di vita, diciamo, e per questa stagione, secondo me. E si tratta di questo profumo di Ugo Boss. Questo è il The Scent in Tons. Sì, come vedete, l'ho preso, mi pare, in luglio e ne ho già quasi usato metà. E vi dicevo, per me è perfetto per questo tipo di utilizzo, nel senso che è un profumo molto equilibrato, non è troppo invadente, non è preponderante, non dà fastidio a chi avete intorno, ma si sente. È un bel carattere, diciamo, e una sua originalità. pur essendo un profumo facilmente portabile. Si apre con un sentore di pesca che si avverte abbastanza. C'è questo proprio profumino dolce, succoso, delicato, ma trizzantino, giovane, che poi si smorza però praticamente subito in note più calde, più ambrate, in cui spicca senza dubbio la nota del caffè. Alla fine sembra, sì, avete quasi un odore da tiramisù, con parecchio caffè però. Però, ripeto, non è mai troppo invadente, è davvero perfetto per l'utilizzo quotidiano. E un altro profumo che in realtà, l'avete visto nell'ultimo video haul che ho fatto, quindi ho da molto meno tempo, ma sto usando praticamente tutti i giorni da che ce l'ho, è il famosissimo vaniglia e zenzero di Lergolario, che io non avevo, non utilizzavo da tantissimo tempo, ma di cui mi sono assolutamente re-innamorata. Se volete una vaniglia, non troppo impegnativa, sicuramente non la vaniglia più ricercata, che ci sia solo faccia della terra, ma comunque decisamente gradevole, ma non stucchevole, non troppo dolce e con quella sferzata, diciamo più energica dello zenzero, questo è il profumo perfetto. È molto, molto equilibrato, lo zenzero si sente tanto, ma si sente in maniera decisamente gradevole, secondo me questo è un profumo azzeccatissimo di Lergolario, che per fortuna hanno ricominciato a produrre, dopo un po' che non lo facevano, e mi piace veramente, veramente tantissimo, tantissimo. Ho usato molto meno profumi più impegnativi, ripeto, per lo stile di vita che ho fatto in questo periodo, ma spero di presto di riparlarvi anche di altri generi di profumo. Poi vi voglio fare un accenno e due smalti Fabi, quelli che ho comprato più di recente, perché li ho utilizzati tutti e due. Allora, sulla qualità nessuna sorpresa, li conoscevo già, gli smalti Fabi a me piacciono tantissimo, sono smalti 10 free, quindi ben formulati, italiani, con un'ottima formula, un'ottima durata, e per me hanno sempre una marcia in più per quanto riguarda i colori. Questi sono due colori della collezione autunnale, questo me l'avete visto in diversi video, si chiama Three Laws of Nails, ed è questo rosso desaturato, mattone, vino, molto particolare, molto bello, ma mi ha stupita tantissimo soprattutto questo, che si chiama Vega, ed è quello che indosso, per me è straordinario. Allora, questo, a mio avviso, è più particolare in boccetta che poi di fatto sulle unghie. Sto cercando di metterlo in un punto in cui possiate vedere bene il colore. A parte che vi ho registrato di recente un video che riguarda gli smalti, e lì ho fatto l'inquadratura proprio sui smalti, dovrebbe vedersi meglio. Allora, questa particolarità di questo mattone, no, di questo rosso, più rosso che mattone, ma con quel filo di marrone all'interno, per me si nota di più in boccetta che sulle unghie. Se fate due passate, secondo me sulle unghie tende a uscire di più un Barry un pochino più classico di quello che si immagina vedendo la boccetta, ma questo per me è pazzesco. Io non so come definirlo, trovo che sia un fango assolutamente neutro. Questo non è un colore né caldo né freddo. Per me è col grigio, con colori freddi, così sta benissimo. Poi comunque ho fatto un trucco tutto sui toni del marrone e tortora, e per me sta benissimo, ma questo è uno smalto assolutamente neutro. Potete indossarlo tutto l'inverno, senza alcuna preoccupazione, è meraviglioso. Mi piace tantissimo, tantissimo, soprattutto questo. Passiamo al make-up. Allora, vi volevo rendere notte gli esperimenti che sto facendo in questo periodo per quanto riguarda la base. Vi dicevo qualche video fa che cercavo un fondotinta dalla media-alta coprenza, però satinato, che andasse verso il luminoso, ma non troppo. Perché? Perché io già possedevo questi due, che sono praticamente uno l'opposto dell'altro. Qui parliamo della Skin Realist di Nabla. Io ce l'ho in colorazione 1, quindi la versione più chiara. Lo sapete, vi ho fatto anche un video applicazione. Questo è un prodotto via di mezzo tra la skin care e il make-up. Si tratta di una crema colorata, di fatto, a base di acido ialuronico, molto molto luminosa. Che su di me fa un bellissimo effetto di me. A me piace l'effetto che fa su di me. È molto luminosa, dà la coprenza leggera, ma abbastanza costruibile. Mi piace molto. E poi ho questo, che è il mio fondotinta della tranquillità, per la full face, coprenza, direi, alta. Questo è l'Infalvol 24 Ore Matte Cover di L'Oreal, in colorazione 115, che per me è una garanzia, durata eccelsa. Un matte non gessoso, che mi piace molto. Quindi, appunto, avendo questi due estremi, volevo qualcosa di diverso. Ma mi scoccia comprare altri prodotti, avendo questi più il fondotinta di Astra, il Transformers, che avete visto nella mia pochette, diciamo, da tutti i giorni, per quando voglio truccarmi velocemente. Allora, ho provato a miscelarli. Allora, miscelare i fondotinta è sempre un pochino un rischio, se le formule sono molto diverse. Ad esempio, un fondotinta a base di acqua. Non potete miscelarlo con un fondotinta più pastoso, più grasso, a base d'olio, perché le due formule non andranno a miscelarsi insieme. Ma questi due prodotti sono piuttosto simili, come consistenza, non solo. Ma questa è di fatto una crema intrattante. Quindi, se utilizzate questa crema insieme a questo, andate a togliere un filino di coprenza a questo prodotto, ma andate a dargli molta più idratazione e molta più luminosità, senza però farlo diventare estremamente luminoso, essendo questo un fondotinta matte. A me l'abbinata piace da morire. L'ho fatto più volte, mi sono trovata veramente molto bene, quindi alla fine ho trovato quello che cercavo, utilizzando le cose che avevo. Ovviamente, se non possedete questi prodotti, non vi consiglio di comprare questi due prodotti per miscelarli. Cercate magari un prodotto unico che vi dia questo finish, se lo ricercate ovviamente. Ma se li avete, o se ne avete uno dei due, l'altro vi ispira di provarlo. Sappiate che insieme per me stanno molto bene. Un'altra cosa che faccio con questo fondotinta per dargli ancora più tridimensionalità, per aggiungere un filo di luce, è utilizzare prima di questo fondotinta due primer in aree diverse del viso, che è quello che ho fatto oggi. Dalla camera probabilmente non vi rendete particolarmente conto, perché i miei potenti mezzi non sono in grado di cogliere tutte queste sfumature che vi racconto, ma fidatevi che questa cosa sta funzionando. Allora, il primo che vi mostro è questo primer di neve, di cui vi ho già parlato anche in un video preferito, mi pare. Si tratta del... Sapete che sotto vi scrivo tutto, comunque ve lo dico anche. Si tratta del Muse Texturizer Star System Special Effects. Si tratta di questo primer in stick che si presenta bianco, ma di fatto è assolutamente trasparente sulla pelle e ha un potere enorme di levigare la pelle e minimizzare i pori. Quindi, quando voglio una full face come oggi, vado a stenderlo soprattutto nella zona T, dove ho qualche poro dilattato, la pelle un po' più irregolare, lo sfumo con le dita o con una beauty blender, ma poi con la beauty blender vado ad aggiungere nelle zone in cui voglio più luce, soprattutto in questa zona, nella zona dove si mette l'illuminante, questo primer barra illuminante di Physicians Formula che si chiama Spotlight Illuminating Primer. Allora, questo è in assoluto il primer più luminoso che ho, o meglio, più che luminoso, vedete, si presenta così con un sottotono rosato, no, neanche oro rosa, diciamo, ma che va bene un po' su tutte le carnagioni perché poi non colora di fatto la pelle, ma non so se notate, da proprio dei bagliori metallici sul viso. Non ci sono brillantini, è proprio il finish che è metallico, come se fosse di fatto un illuminante o un ombretto. Su tutto il viso su di me non va bene perché comunque non mi va di avere questo effetto palla da discoteca su tutta la faccia, ma sfumato con la beauty blender appunto in questa zona, sotto il fondotinta, si coglie comunque almeno la tridimensionalità del viso. Poi è ovvio che se ci mettete sopra un fondotinta molto coprente, il tutto come effetto è davvero delicato, ma quando voglio un effetto un pochino più strong, questo prodotto lo metto sia sotto il fondotinta che poi sempre con la spugnetta con cui ho steso il fondotinta lo metto anche sopra a fare un effetto, diciamo, base per l'illuminante. A me piace molto questo tipo di utilizzo, mi trovo davvero bene. E per concludere, io comunque dovendo un po' fissare il make-up avendo una pelle mista, specialmente in questa stagione in cui non è ancora freddo, sto riutilizzando, dopo anni che l'avevo terminata, molto volentieri, questa cipria di Kiko, è la Radiant Fusion Baked Powder in colorazione 02, che è appunto una cipria cotta ed essendo cotta ha quel filo di luminosità in più rispetto a una classica cipria, quindi è una cipria che va a fissare ma non a opacizzare il trucco. E specie in questa stagione mi piace veramente tantissimo, ha un'ottima qualità. Per me le polvericotte di Kiko non è la prima volta che ve lo dico e parlo anche di blush illuminanti, sono favolose. A me piacciono tantissimo per quanto riguarda la qualità. Restiamo sul viso, ho usato come non ci fosse domani questa palette di Smashbox, l'Ave Cali Contour, ve l'ho fatta vedere quel trilione di volte, ma che cosa volete che vi dica? Per me questa è una palette eccezionale, studiata benissimo, tutte le polveri vanno bene sulla faccia, non c'è un colore che è troppo scuro rispetto a un altro, con un sottotono diverso rispetto all'altro che non potete andare a miscelare, cosa che spesso accade, secondo me, nelle palette viso e la qualità è favolosa, favolosa. Io l'ho utilizzata molto per ragioni di praticità, in primo luogo, perché si prende in mano un prodotto e si fa tutto, con risultati ottimi, ma anche per la qualità. Io quando voglio un risultato garantito, sia per effetti che per durata, mi rivolgo a questa e non ho problemi. Oggi porto, ho indosso tutti i colori, oggi ho esagerato, lo so, lo so che ho esagerato, però mi sono truccata presto per fare il video, quindi volevo una roba che mi durasse anche in serata, perché sarà una serata lunga, mi auguro, è divertente. Quindi, ho utilizzato questo come contouring, ho utilizzato il bronzer come bronzer, ho utilizzato questo illuminante più scuro come topper per il bronzer, l'illuminante chiaro come illuminante e ho utilizzato questa polvere chiara per pulire diciamo l'occhiaia, per pulire i confini dei miei capocchi e il blush che è questo bellissimo rosa biscotto che io adoro. È una paletta stupenda, se non ce l'avete ancora trovate qualche offerta io ve la straconsiglio, ma ve la consiglio proprio a cuore leggero, tra l'altro potete utilizzarla anche per gli occhi, per trucchi veloci, è fenomenale. visto che abbiamo citato gli occhi ho ritirato fuori la mia palette della vita, questa è la mia palette preferita, tra tutte le mie palette questa è la mia preferita in assoluto e per me chiama autunno tantissimo. Non ho toccato gli occhi tanto in questo mese o comunque ho fatto trucchi molto molto semplici ma oggi ho utilizzato questa ma in generale se io voglio usare una palette che mi sappia veramente di autunno che stimoli la mia fantasia che mi regali sempre trucchi perfetti io prendo questa e ovviamente parliamo della Jackie Aina di Anastasia Beverly Hills la amo ci sono tutti i colori che mi stanno meglio dai rossi ai viola mi donano molto sul mio tipo tipo di occhio e poi ci sono questi tortora questo blue brown che sono i miei colori oggi ho fatto proprio il trucco quello in cui mi sento più me stessa ho utilizzato questo tortora sulla palpebra mobile lo adoro questo marrone scuro all'angolo esterno un mix di questi due colori nella piega e ho messo questo rosellino qui all'angolo interno come illuminante mi piace da morire non so cosa dirvi e pensate che gli ombretti di Anastasia Beverly Hills non sono i miei ombretti preferiti mamma mia scusatemi mi sono dimenticata adesso tolgo la suoneria perché veramente non si può la togliamo subito perché altrimenti me ne sono dimenticata prima mi dispiace ecco qua allora dicevo che non sono in generale i miei ombretti preferiti ma questa paletta per me è pazzesca sia per qualità che per scelte cromatiche c'è proprio scritto il mio nome e poi conferma ve ne avevo già detto nel video perché lo stavo già usando da una settimana adesso lo sto usando da quasi tre settimane questo mascara di Maybelline è poderoso si tratta del The Falses The Falses The Falses Lash F Lift scusate mascara perfetto è perfetto ha uno scovolino piuttosto grosso per i miei gusti ma io mi trovo molto molto bene setole classiche questa forma un pochino clessidra e a me dà lunghezza e volume favolosi favolosi la pasta del mascara non è troppo densa non è troppo liquida è perfetto per lo meno per ora è perfetto per quanto riguarda le labbra attenzione di farvi un video specifico perché ho ritirato fuori e ho ricominciato ad utilizzare diversi rossetti con un tocco di rosa con una punta di rosa che per un paio d'anni avevo un po' sonobato ero andata molto più sui mattone sui marroncini eccetera eccetera che uso ancora molto volentieri però mi sono ributtata anche sui colori un po' malvati eccetera quindi vorrei farvi un video specifico sui rossetti con un po' di rosa all'interno ma per me torna l'autunno e torna lui ovvero all'illusivo di nabla non ne potrete più sentire parlare l'ho quasi finito il rossetto che porto potrei vivere solo con questo cioè io oggi che ho portato praticamente dei prodotti allora il mascara non ci è andato ancora perché lo conosco da poco ma questi tre prodotti per me sono delle certezze assolute tra quelli per cui direi toglietemi tutto ma non questi a me piacciono da morire questa formula è pazzesca sono rossetti matte vellutatissimi morbidi sulle labbra il finish lo odore per me questo colore è semplicemente perfetto perfetto allora con il beauty abbiamo finito ma ci sono state altre cose che hanno caratterizzato questo mese in particolare la mia casa allora dovete sapere che ormai avevo detto milioni di volte sono cambiate un po' di cose nella mia vita nel mese di settembre e io quando sono un po' presa a livello mentale da nuove cose che poi diventano nuove preoccupazioni perché io mentre le cose cambiano sono sempre un po' tesa faccio fatica un po' a concentrarmi a fare cose che richiedano troppa testa allora mi butto sulla casa cioè riorganizzo tutto apro cassetti sposto cose riorganizzo un po' gli armati eccetera eccetera ma anche diciamo sull'abbellire la casa rispetto ai video che vi ho fatto l'anno scorso poco prima di Natale avevo appena finito i lavori che avevo fatto a casa vi ho fatto dei video home tour suddivisi per stanze le cose sono un pochino cambiate magari ci sono dettagli in alcune case in alcune case sono abbastanza ci sono delle differenze abbastanza notevoli diciamo che però hanno migliorato moltissimo sia la funzionalità di alcuni ambienti della casa sia l'estetica e mi sono molto lanciata in questa cosa specialmente per quanto riguarda il recupero ci sono diverse cose che ho recuperato dai miei genitori che magari avevano messo via perché erano cose loro che non usavano più che ho gradito avere in casa mia guardo lì perché ce l'ho lì davanti ho delle teiere delle caffetiere degli anni 70 che io ricordo da quando ero piccolina nella cucina arancione del 1970 tra il 75 e il 85 che avevano i miei e le ho rivolute qui perché al di là del fatto che ormai si tratta di modernariato sono oggetti che vengono venduti anche nei negozi vintage ad esempio sono proprio originali molto molto belli quindi al di là dell'estetica però c'è anche l'aspetto del ricordo ho messo sulla cassa panca in salotto la macchina da scrivere del mio papà che gli fu regalata quando è stato promosso in prima media quindi parliamo di una macchina del 1961 con i tasti tondi poi ho fatto dei quadretti ho fatto dei collage con delle cornici poi ho fatto una specie di salottino in cucina sotto la finestra ho cambiato qualcosa nella camera di mia figlia ma siccome non posso farvi vedere fisicamente le cose in questo video io vi proporrei se la cosa vi interessa una sorta di home tour di aggiornamento dopo un anno in cui mi soffermerò molto meno tempo rispetto a come fatto la prima volta magari vi farò invece che i 4 video ve ne faccio 2 per dire il giorno e la notte in cui vi rimostro un po' di cose magari per darvi anche non so delle idee o dei suggerimenti se vi va fatemi sapere se la cosa in qualche modo può interessarvi ultima cosa che vi voglio mostrare ho acquistato questo quaderno è un bullet journal da Feltrinelli si tratta si chiama nel mondo di open worlds scritto così come word e come parola perché è una linea che diciamo sostiene l'ambiente è fatta con carta riciclata e per cui si come dire si contribuisce con l'acquisto di questa linea di cartoleria alcuni progetti per quanto riguarda l'ambiente vi faccio vedere la facciata la prima facciata è questa ci sono tantissimi colori dimensioni quaderni cartellette morbidi rigidi questo è un quaderno in copertina rigida che è proprio il classico bullet journal perché non so se lo vedete ha i puntini che formano il quadretto di bullet journal e ha le pagine numerate è semplicemente bellissimo io ho preso questo colore perché il mio colore è l'autunno per me ha i colori più belli che esistano e questo lo specchia tantissimo ma esiste anche sui toni del verde dell'azzurro del bianco e nero e ripeto tanti tanti modelli questo costa 14,90 euro e io l'ho preso per fare il reading journal voi sapete se mi seguite specialmente per quanto riguarda i libri che io ho dei diari di lettura tengo traccia delle letture in vari modi vi ho girato dei video apposta con la fine del 1921 con la fine del 2021 terminerò il quaderno dove tengo traccia delle letture su cui ho diciamo raccolto le letture del 2020 e del 2021 spero che mi bastino le pagine penso di sì spero comunque sicuramente lo terminerò e vorrei cominciare proprio con un progetto più reading journal vero utilizzando questo quaderno poi magari vi mostrerò o in corso d'opera anzi in corso d'opera e poi magari vi farò vedere un mese o due mesi come intenzione di tenere questo quaderno con l'inizio dell'anno prossimo insomma comunque vi volevo segnalare questa linea ripeto io l'ho trovata da Feltrinelli vi scrivo sotto bene tutto non so se esiste anche in altri rivenditori immagino di sì mi piace veramente tantissimo controllo perché mi sono come sempre prese gli appunti di non aver dimenticato nulla no non ho dimenticato nulla spero come sempre che il video vi sia piaciuto che in qualche modo vi sia stato utile vi ringrazio come sempre vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va ciao ciao